Il famoso manoscritto del celebre compositore di San Vito dei Normanni, Leonardo Leo, potrà essere finalmente acquistato dal Comune. Grazie al decisivo contributo offerto per la raccolta fondi dalla dottoressa Stefania Baldassarre, l'imprenditrice brindisina che durante uno dei concerti del Barocco Festival aveva annunciato la decisione di contribuire per la somma mancante al rilevamento dell'opera attualmente custodita da un noto antiquario di Parigi, le importanti pagine dell'oratorio di Leo potranno ritornare nella sua città assumendo un valore culturale quale emblema in favore dell'intero territorio provinciale, richiamando l'attenzione internazionale su un evento di grande importanza quale il Barocco Festival. L'auspicio di portare a San Vito il manoscritto era stato espresso due anni fa dal maestro Cosimo Prontera, direttore del Centro Studi e Documentazione Leonardo Leo ed a questo proposito il maestro ha già annunciato che nella prossima edizione del Barocco Festival sarà possibile eseguire proprio l'opera inedita di Leonardo Leo contenuta nel documento. Il manoscritto è un dramma sacro o oratorio completo in tre atti e dal titolo dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena, donato da Leonardo Leo alla città di Atrani, città nei pressi di Amalfi nel luglio 1722 per la festa della patrona Santa Maria Maddalena. L'opera è stata considerata persa per anni. Sull'ultima carta dell'opera è visibile inoltre la firma del compositore recante le sole iniziali LL.